Signori Meteor, Sean Connery, un film che ha 37-38 anni e si vede, è una specie di Armageddon L'ho trovato gratis su Youtube, adesso vi faccio vedere anche dove Qua, su SuperTV anni 80, per carità, non bisognerebbe guardarli su... però onestamente ha 40 anni C'è, ci sarà sicuramente anche il link per comprarlo, probabilmente lo comprerò Però, se volete vedervelo gratis, secondo me non è sbagliatissimo Voto 5, non di più, per carità, non è che sia questo gran film Però, dai, per vedere un Sean Connery di tanto tempo fa con degli effetti speciali schifosi Va bene, un saluto a tutti, mettete mi piace, iscrivetevi al canale, ciao ciao